Leo, come abbia seguito personalmente, quotidianamente questa questione, con... ...che ci fanno guardare in maniera diversa, ma purtroppo queste questioni si risolvono anche con un formidabile grado di riservatezza. Abbiamo di recente potuto osservare insieme, io, per esempio, ci si confronta non con il miglioramento delle condizioni di reddito o di diritto nelle aziende. Tenacemente, tenuta alta la vertenza fino a... ...per la qualità degli incentivi, per la qualità degli investimenti, per la riqualificazione degli apparati produttivi. Gli imprenditori al tavolo, io penso che... Ringrazio inoltre il sottosegretario e il presidente Rendola per gli apprezzamenti che hanno riservato la nostra società, la possibilità di dirottare... Andiamo per questo. I punti essenziali sono nostri. Applausi. 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 Applausi.